Ah Tras, la flasca, grana la flasca, o sei crasciato o io non la vedo. No, far dire che pure che la flasca è il cartellone. Arca, in serio? Si butta il risparmio. Fremazzate. Fremazzate. Caos indomabile, guardate sotto i vostri piedi. Lame oscure, guardate dove vanno. Frantumazione in cinque, quattro, tre, due, uno, frantumazione, correte. Caos indomabile. Faccio sotto i vostri piedi. Patrice è cambiata. Le lame. Guardate dove le fa, lame, attenzioni. Cambio, cambio. Protocollo, protocollo, veloci sulla Maiden, correre, correre. Quattro. Caos indomabile, guardate sotto i vostri piedi. fa, buona, prognarci qui. E i vostri piedi. Ho registrato la maidenza a essere i vostri piedi. Escrivete, guardate, guardate. È, buoni. Quello che vedo, guardate sotto i vostri piedi. Maidenza rovincio, la maidenza incontro, la maidenza. andiamo tutti i vostri piedi ce l'ho ce l'ho lame guardate dove le fa protocollo veloce sulla maiden veloci veloci caos indomabile subito dopo frantumazione occhio che bisogna scappare cambiato bravo faccio che bisogna correre a breve non l'ha fatta e l'hame attenzione ecco la trantumazione caos indomabile occhio sotto i vostri piedi lame ma che dove le fa ragazzi camion aspetta a 96% a breve ecco lo protocollo subito dopo caos e fa anche frantumazione si arriva in un certo punto che incomincia a farlo sempre più velocemente coppio cambio ok frantumazione scusate l'antimedicidio occhio alle lame scusate bene ragazzi spingere sul boss perché ci serve abbassarlo ancora di più eh cambio levatevi sotto i vostri piedi guardate attenzione scusate maiden com'è va va lame oscure guardate dove le fa e va maiden maiden ne fa subito anche frantumazione cambio maiden ecco la frantumazione tiramolo leggermente più indietro ok morta quindi si va giù adesso eh no madras nooo si ora si va giù però sta buona percentuale eh spingere spingere ancora sul boss spingere 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 cambio salate salate noi nei ricerchi insieme salate il quadrato attenzione cazzo non fate morire nessuno che ci siano tutti frantumazione via frantumazione è uguale ragazzi è una L è indifferente lì ho qui è indifferente adesso allora riprendilo a marucco riprendilo a marucco facciamo troppo lontani ragazzi dobbiamo essere eh sì passate mi estus via frantumazione sottoponazione ma te ce ne manca questo e un altro no? sì questo e un altro ma dovremmo farcela tranquillamente scusate l'apre bozza passione io no allora non gente no scusco vediamo un altro rest restate mi dracog non mi morite più eh però spingere, spingere, spingere fantumazione, via questo è l'ultimo cerate cerate i due marchi buono, facciamo a morire tirate con cd difensivo spingere sul boss ora fantumazione in tre gg